e voto, ovvero il rappresentante, il capo dei senatori del Movimento 5 Stelle, Danilo Tonolinelli. A voi subito la linea. Che ha partecipato a tutte le consultazioni, quindi diciamo ne sa qualcosa rispetto, non è inutile che glielo rassuma, avrà sentito il capo dello Stato Mattarella, però diciamo quella definizione, governo di servizio neutrale, appoggiato da tutti fino a dicembre, nel frattempo affrontate una serie di problemi. La vostra risposta? Ma il Presidente Mattarella ha fatto un discorso che dal suo punto di vista istituzionale non fa una piega, però noi dobbiamo fare un discorso di natura politica. Il Movimento 5 Stelle è dal 5 di marzo che prova tutte le strade per dare al Paese l'unico governo rispettoso veramente e seriamente del voto popolare che era un voto di cambiamento e quello non può essere che un governo politico. Ci abbiamo provato con la Lega, per 55 giorni ci ha fatto aspettare inutilmente. Ci abbiamo provato una seconda volta, ieri con la Lega ci ha ancora detto di no, rilanciando con un governo del centro-destra che non è in numero e che di conseguenza stava andando a cercare Volta Gabbana, ovviamente no. Abbiamo provato col PD, non è neanche venuto al tavolo a parlare con noi, a dimostrazione che il PD è un voto totalmente inutile quello del Partito Democratico che ha definito di vedersi ed essere una forza di opposizione prima ancora di andare a vedere le carte e contenuti in un contratto di governo. Quindi non essendoci più la possibilità di fare un governo politico, quello che presenta, e noi lo rispettiamo fortemente perché abbiamo lavorato e interloquito col Presidente Mattarella in tutti questi 60 giorni con grande serietà e continuità, ma dal nostro punto di vista quello non essendo un governo politico, ma una etichetta di natura tecnica, non può essere votato e siccome la seconda opzione del Presidente della Repubblica è stata quella di un voto l'8 luglio che è quindi possibile, secondo noi l'unico modo per rispettare il voto del 4 marzo è ridare ai cittadini la possibilità di votare, a questo punto avendo di fronte una forza politica che si è dimostrata totalmente aperta per dare un governo politico, ma ai cittadini e ai telespettatori che sono a casa io dico, votando e dando al Movimento 5 Stelle qualche cosa in più, cioè facendoci arrivare al 40% possiamo governare da soli e fare quelle cose che veramente i cittadini ci hanno dato e detto da fare con il voto del 4 marzo. Toninelli, Mattarella lo ha sentito dicendo quel governo di servizio neutrale, ha pure detto che non prescinde dal fatto che le forze politiche possano continuare a dialogare e trovare una maggioranza politica, se è vero che si può trovare una maggioranza politica, ha detto il tempo c'è, non è che non c'è tempo. Io lo comprendo, ripeto e lo rispetto, ma mi dite voi quale altra strada? Allora in Parlamento ci sono la Lega e il Partito Democratico, i cui voti sommati con i nostri danno la maggioranza assoluta. Mi dite voi che cosa deve cambiare, non c'è più nient'altro. Abbiamo messo al centro i temi, abbiamo messo e l'abbiamo chiamato. Un attimo che... Aspetta che è saltata la linea audio. Un attimo che è saltata la linea audio, proprio in questo momento. Vediamo di ripristinare... E' tornata perché sì, adesso ci fanno... Perfetto. Ok, stavamo dicendo appunto che secondo voi il tempo è scaduto nonostante l'indicazione di Mattarella. Ma non è sinceramente un fattore di tempo, è un fattore di possibilità. Siccome l'abbiamo provato tutte e l'abbiamo fatto con sincerità sia nei confronti della Lega che nei confronti del PD, avete visto il cinismo, la cattiveria, i tatticismi e i tradimenti che hanno portato avanti? Quando c'era veramente la possibilità, se ci fosse stata la volontà e noi ce l'avevamo, di fare un contratto di governo, di far partire questo Parlamento e questo Governo, non ci sono novità. Però rispetto alla data, è vero che Mattarella ha citato anche prima dell'estate, però ha anche detto che non è mai successo, che sarebbe veramente la prima volta nella storia della Repubblica e che comunque si potrebbe andare almeno dopo l'autunno. Lei dice invece subito, anche se poi questo Parlamento non ha mai lavorato. Io penso che la sensibilità dei cittadini dica proprio questo, andare a votare prima è proprio permettere ai cittadini di far ripartire questo Parlamento. Con la stessa legge elettorale. Con la stessa legge elettorale, ricordandosi che se voti PD voti in annulità, il PD si è cancellato lui stesso, dicendo, senza voler parlare di temi, che stava all'opposizione. Quindi la domanda da cittadino e che porrei un cittadino che trovo per strada al mercato è ma che cosa voti a fare ancora se mai l'avessi fatto? Il PD si è detto che qualunque cosa accada lui rimarrà all'opposizione. Dall'altra parte c'è Forza Italia che ha ancora Berlusconi che non ha voluto fare un passo di lato per permettere un governo, è rimasto abbracciato con il Salvini che l'ha mantenuto, a sua volta abbracciato. La unica alternativa è veramente il voto e io penso che se oggi i sondaggi ci danno al 35% il 40% nei giorni in cui saremo nelle piazze, tra i mercati, in mezzo alla gente lo potremo ottenere da soli. Direttore, a voi. No, Toninelli, noi abbiamo capito che lei vota 5 Stelle, non c'è problema, però quello che vogliamo capire, anche con il suo aiuto se è possibile, è che cosa fate di fronte a un governo proposto direttamente dal Presidente della Repubblica? Allora gli dite no comunque? Lei già oggi dice, quel governo non mi piace anche se non l'ho ancora visto perché è tecnico? E così le chiedo conferma, è questa la vostra posizione? In ogni caso non avrà nessun voto dal Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato? Non possiamo fare altrimenti, Mentana. Non possiamo permettere che delle persone che non hanno una legittimazione popolare e io ovviamente non ho alcun pregiudizio con quelli che saranno i nomi proposti e il nome proposto dal Presidente della Repubblica, ma non possiamo permettere in un momento in cui i cittadini vanno ascoltati più che mai e vanno risolti i problemi che una persona che non è passata per la competizione elettorale possa oggi andare a gestire e a cercare di risolvere i problemi. Non è più una questione di tempo. Io capisco, ripeto, Mattarella che dice questo governo di transizione per trovare degli accordi, ma gli accordi non ci possono stare con chi ha fatto di tutto per far sì che il Movimento 5 Stelle non andasse al governo, perché questo è il dato politico di questi 60 giorni. Però scusi, vi abbiamo visto dialogare con la Lega fino a oggi stesso, quindi forse quella porta se si è chiusa si è chiusa in questo momento, ma probabilmente è socchiusa e si potrebbe tecnicamente riaprire. Però le chiedo un'altra cosa e gliela chiedo perché è una domanda che già circola e vi farà e sarà fatta. Perché dite così risolutamente no ai tecnici quando nel vostro governo presentato subito prima delle elezioni c'erano tanti tecnici? Perché dietro c'era il cuore politico mentana, perché dietro c'era la sensibilità, erano comunque persone che avevano sposato il progetto, partecipato a scrivere il programma, affiancato noi portavoce in Parlamento nella scrittura del programma e avevano noi alle spalle, comunque lì c'era un percorso già avviato, è completamente diverso da quello che potrebbe essere domani un governo tecnico. Noi diciamo semplicemente che nessuno può dire al Movimento 5 Stelle di aver fatto 60 giorni nel tentativo di trovare una soluzione ai problemi creati dagli altri, ma mi permetto anche di dire una cosa e mi pare che non se ne sia parlato tanto, ma tutto questo caos qua, ma ci rendiamo conto che è dovuto non solo dalla legge elettorale votata da Renzi, Salvini e Berlusconi, ma dal fatto che nella legge elettorale ci fossero solo i nominati, perché quella cosa qua noi abbiamo fatto le parlamentari e siamo stati gli unici a fare le primarie interne, qua dentro non ci sono nominate nel Movimento 5 Stelle ma gente scelta tra la gente e dagli iscritti al Movimento 5 Stelle, gli altri sono tutti stati nominati. È per questo che dico alla gente che ci segue, l'unica possibilità per dare un governo stabile, serio e non di nominati, nonostante la legge elettorale che non entreremo mai, diciamolo chiaramente in un dibattito infinito sulla legge elettorale con Berlusconi che chiede il premio di coalizione, l'altro che chiede il premio della lista che poi non sono neanche inseribili nel Rosatellum. L'unica cosa veramente seria è andare al voto e dire alla gente dateci questa possibilità e noi siamo convintissimi di farcela. Toninelli, stasera c'è una riunione dei vostri, questa è la linea ufficiale del Movimento 5 Stelle o ci sarà un dibattito e prenderete una decisione collegiale? No, questa è la linea chiaramente ufficiale che abbiamo tenuto dal 5 marzo quando il capo politico Luigi Di Maio ha detto faremo un appello alle altre forze politiche, quando ha detto facciamo un appello alla Lega e al PD per fare un contratto, implicitamente escludeva già qualsiasi altra ipotesi. E c'era il sostegno del Movimento, non c'è bisogno di un altro passaggio. Esatto, non c'è bisogno, ma il Presidente della Repubblica, Mattarella, sapeva perfettamente questo. Noi nell'interlocuzione abbiamo sempre stati molto chiari, governo politico con la Lega o col PD in alternativa non possiamo permetterci. Dovrete fare una correzione al vostro statuto sulla storia dei due mandati, del limite? Non può chiederlo a me perché sono in evidente conflitto di interessi, ma certamente abbiamo un garante che ha quelle funzioni. Ha ragione, peraltro la legislatura non è ancora iniziata e non saranno gli altri a dirvi che non avete eventualmente ottemperato quello che era una vostra regola precisa. Non è questo il problema, francamente stiamo più alla sostanza. Questo è un problema che ovviamente vi porranno, come voi fate alle altre forze politiche, ma per chi segue la politica è importante capire quello che succederà. Senta Toninelli, ho l'impressione che ci vedremo ancora tante volte nei prossimi giorni, soprattutto se siamo già in campagna elettorale. Buona serata, grazie. Esatto, lo penso anche a tutti.